La Polizia di Stato di Caltanissetta ha eseguito otto misure cautelari per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. L'approvvigionamento della droga, cocaina e marijuana sarebbe avvenuto a Palermo per poi essere ceduta a domicilio agli acquirenti, anche minorenni. La squadra mobile, nel corso delle indagini preliminari, ha eseguito otto misure cautelari personali emesse su richiesta della Procura della Repubblica, distrettuale antimafia di Caltanissetta, dal giudice per le indagini preliminari. Agli indagati, sette uomini e una donna, è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziati di aver fatto parte di un'associazione per delinquere che avrebbe avuto come fine il traffico di sostanze stupefacenti. Le indagini iniziate nel 2022 hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati, i quali, secondo gli inquirenti associati tra loro, si sarebbero occupati di rifornire di sostanza stupefacente, prevalentemente del tipo cocaina e marijuana, decine di acquirenti, molti dei quali ancora minorenni. La sostanza oggetto di vendita, secondo quanto emerso dalle attività investigative e contenuto nell'ordinanza cautelare, sarebbe stata consegnata al domicilio dell'acquirente o ceduta presso l'abitazione degli indagati. In particolare, la cocaina sarebbe stata ceduta, pronta per essere consumata come crack, ovvero per essere sniffata. Molto spesso, infatti, la richiesta di consegna di stupefacente sarebbe stata formulata dagli acquirenti tramite la semplice indicazione dello stato della sostanza, crudo o cotta, per far intendere la tipologia di droga da confezionare. L'uso di cocaina è già particolarmente pericoloso, ma quando viene assunta nelle forme di crack, può essere letale o recare danni permanenti. In più occasioni, la squadra mobile ha operato arresti e sequestri al fine di reprimere le numerosissime cessioni registrate dalle telecamere della Polizia di Stato posizionate nei luoghi divenuti delle vere e proprie piazze di spaccio. Sono stati inoltre segnalati all'Ufficio Territoriale del Governo diversi assuntori che stanno seguendo un percorso di recupero presso il Servizio Dipendenze. Grazie all'attività di indagine, gli investigatori hanno individuato altresì il presunto canale di rifornimento di cocaina presso la città di Palermo. Al termine dell'attività investigativa, la Procura della Repubblica di Caltanissetta, che ha coordinato le indagini, ha chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari l'applicazione della misura cautelare nei confronti degli indagati. Grazie alla collaborazione della squadra mobile di Palermo e Savona, è stato possibile individuare due degli indagati nei loro territori.